il fiumiciatolo... beh fiumiciatolo mica tanto guarda guarda che bello che è wow io volevo dire che si guarda qui metti gli uomini chiunque Grazie a tutti. 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 Wow. Bella. Ciao. Yeah. 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 Anche queste piante erano belle, cavoli, che belle che erano a fotografare l'oro, ormai le ho passate. Ecco, e qui purtroppo, ah ecco adesso il paesino però con tutte queste piante, eccolo lì. E' bello fotografare proprio la pianta, perché si è? E' una cosa, andiamo a vedere. Guarda che in alcuni punti è bello fotografare proprio la pianta perché... Ah sì! ...e? Eh sì! Guarda che in alcuni punti è bello fotografare proprio la pianta, perché... Questa è una pezza, però è raccoglione punti valeva a poter fotografare il posto. la possibilità di fotografare la possibilità di fotografare